ciao a tutti amici bentrovati e sono tornata qui con voi per fare oggi per fare un unboxing un unboxing questo intanto vi faccio vedere il pacco le dimensioni del pacco e voglio fare questo unboxing con voi in modo tale che così lo valutiamo insieme vi faccio prima vedere di che cosa si tratta un'anteprima ebbene sì ho deciso di comprare queste due tavole non sono altro che le tavole della linea madrid edizione limitata che sono uscite quest'anno nel 2019 la casa ha fatto uscire parecchie tavole oltre a questa oltre alla classica tavola della madrid proprio valterra quella proprio utilizzata da michael j fox ha fatto uscire anche altre tavole di cui queste che io ho comprato che vendono soltanto in coppia ma come potete vedere c'è la classica tavola con raffigurata la delorean che parte no nel viaggio del tempo e ne hanno volute fare appunto anche delle altre una relativa a quella di ritorno al futuro 3 quindi si vede la delorean con diciamo tirata dai dai cavalli nella nel west un'altra invece sempre della delorean con la scena in cui parte viaggia nel tempo di colore invece diverso quindi colore viola un'altra bellissima tavola che secondo me anche quella vale la pena avere ed è quella di caffè 80 quindi il caffè 80 che la scena quella che ritrae michael j fox in intorno al futuro 2 e poi queste appunto tavole che ho deciso di accapparrarmi come dicevo prima sono tavole che non possono essere vendute singolarmente ma nascono in coppia quindi andiamo insieme ad aprire queste bellissime chicche allora prendiamo il cutter ed apriamo la confezione insieme come dicevo prima oltre essere edizione limitata queste tavole hanno una particolarità perché come avete visto prima dalla foto se messe vicine quindi diciamo unite formano proprio la delorean quindi faccio vedere com'è la confezione dentro come vedete sono due tavole tutte in cellofanate e con la plastica imbottita c'è anche un adesivo che mi hanno messo dentro carino ovviamente sempre riguardante lo skateboard e iniziamo a prendere la prima tavola un a caso vediamo qual è dunque già vista così con il suo cellofan ha già diciamo lascia come si suol dire la sua porca figura fa già veramente effetto quindi la tavola ovviamente non ha gli attacchi non ha le ruote ma nasce proprio solo come desk quindi come tavola è una tavola molto leggera devo dirvi la verità è veramente molto leggera è ben fatta è un costituita da un legno d'acero e nord nord americano e e anche al incredibile anche annusandola proprio si sente il profumo del legno quindi questa è la parte di sinistra la parte proprio dove gli manca il il resto qua della dell'altra tavola dell'altra targa che adesso andiamo a vedere allora è un'altra caratteristica che voglio farvi vedere è che questa tavola è veramente rispetto alle altre della linea sempre del 2019 è una tavola edizione limitata perché quella che nasce proprio dagli ideatori che hanno fatto il restyling della delorean come sapete la macchina proprio di ritorno al futuro qualche anno fa gli hanno fatto proprio il completo restyling e quindi sono proprio in edizione limitata proprio fatta direttamente da un'idea che nasce appunto da questi da questi ragazzi quindi non so se riesco a farvi vedere ma la tavola è veramente ha una grafica veramente ben definita non è sgranata per niente è lucida è lucida è anche al tatto non è non è ruvida è lucida è veramente ma veramente ben delineata la lunghezza sono 81 centimetri scusate 81 centimetri e mezzo di lunghezza per una larghezza di 21 e mezzo ovviamente hanno cercato di rifare le tavole quelle che si usavano la desk che si usava negli anni 80 questa è la classica linea di quelle come c'erano ai miei tempi nel senso che comunque negli anni 80 mi ricordo che c'erano questi skateboard fatti in questa maniera ovviamente sono tavole queste due queste due tavole sono particolarmente nate per non tanto per attaccarci grip ruote attacchi e quant'altro ma da collezione perché adesso andiamo a prendere anche la seconda e vedrete che formano la scritta out of time quindi vado a prendere anche l'altra tavola meravigliosa meravigliosa ragazzi questa tavola è veramente meravigliosa guardate i colori come sono molto splendenti adesso non voglio fare riflesso con la luce comunque sono molto splendenti ripeto la grafica non ha una cosa sgranata è veramente ben fatta e anche questa riporta il marchio le tavole come dicevo prima sono riportano 8.25 riportano la lunghezza in americano quindi sono 81 centimetri e mezzo allora vediamo di fare questo bel giochino e di girarle entrambe in questo modo riesco a farle vedere out of time la targa combacia scendo un attimo e formano veramente la macchina cioè quella quella foto che avete visto prima quindi perfettamente allineate in questo modo e ovviamente nascono in coppia perché perché sarebbe un peccato anche se comunque tutte e due riportano il logo sarebbe veramente un peccato lasciarle come dire orfane della della loro seconda gemella insomma sorella più che gemella della della sorella quindi queste sono entrate a far parte della mia collezione privata e vedrò se attaccarle al muro e quindi formare completamente il dietro della delorean oppure semplicemente lasciarle incelofanate e e scatolate insomma comunque veramente il consiglio a tutti le consiglio a tutti perché sono bellissime a parte la bellezza del legno legno d'acero con tutte le venature e anche queste lucida profuma come se fosse una chitarra so se chi è amante di chitarre come me quando compro una chitarra sente l'odore del del legno ma è veramente veramente una chicca guardate anche due insieme sono leggerissime leggerissime bene che dire non mi resta che darvi appuntamento per il prossimo video che sarà un unboxing o semplicemente una diretta e ancora consigliarvi questo prodotto se per caso avete dubbi toglietevelo perché è veramente veramente una chicca ci vediamo alla prossima ciao e seguitemi sul canale grazie